ciao benvenuti qui su pennello per le sue carte oggi andiamo a vedere le previsioni di marzo 2023 lo farò con tre stese di tarocchi fai la tua scelta fra avventurina verde ametista quarzo rosa e andiamo a vedere cosa ti accadrà durante appunto il mese di marzo partiamo avventurina verde andiamo a vedere il tuo mese di marzo 2023 partiamo dagli oracoli ti lascio tutto giù se sei interessato a queste carte trovi tutto giù nella descrizione ho poca voce quindi cercherò di parlare poco e piano va bene allora vediamo marzo marzo 2023 per l'avventurina verde ok qualcosa di nuovo si manifesterà andiamo a vedere cos'altro per l'avventurina verde marzo 2023 messe di marzo marzo bene qualcuno ti sbarra la strada vediamo tutte le altre altre bene quindi qui mi sembra evidente che ci sia qualcosa di nuovo che sta per entrare per l'avventurina verde ma qui ci può essere anche qualcuno o qualcosa che ti potrebbe un po creare no delle difficoltà allora vediamo infatti no troppe comunque qui c'è l'ananas che parla di riconciliazione con qualcuno o con qualcosa e attenzione la catena catena di eventi che ha influenzerà in qualche modo la sua vita e il secchio questo è un secchio tanto che dal dove situation è l'ora di uscire da una determinata situazione bene qui mi pare abbastanza chiare andiamo un altro vedi che qui parlano di qualcuno che ci sbarra la strada e qui parlano di una catena di eventi e di dover uscire in qualche modo da una determinata situazione vediamo qui ci sono gli onori e fanno vedere il sole con questa con questa corona però vedi questi due bastoni qui intrecciati mi fanno pensare a queste gambe che sono altrettanto intrecciate no quindi una situazione da cui dobbiamo uscire nel mese di marzo e io mi viene da dire che ce la farete anche alla grande per le carte che vedo però andiamo a interrogare i tarocchi prima di cantare vittoria vediamo che ci diamo come sarà il mese di marzo 2023 per coloro hanno scelto l'avventurina verde marzo prima carta all'otto di denari mezzo marzo di denari cos'altro belle le stelle 8 di denari stelle ok cos'altro mese di marzo 2023 per l'avventurina verde il guarda di nuovo i due bastoni guarda i due bastoni l'asso di coppe cos'altro e il 6 di denari il 6 di denari allora ragazzi qui letteralmente da quello che vedo ci può essere una come posso dire una soddisfazione anche sul lavoro qui ci può essere una collaborazione una collaborazione che ti può ti potrebbe fruttare dei soldini quindi non so mi viene da pensare appunto un progetto da fare insieme a qualcuno un lavoro che tu fai con un'altra persona o magari come si dice qualcuno che ti paga per fare qualcosa come si dice cioè una collaborazione nel senso due persone che lavorano insieme e fanno la stessa cosa insieme oppure tu che sei e vieni assunta come si può dire pagata per fare qualcosa per qualcun altro non mi viene non mi viene la parola comunque vabbè tu lo capirai se avventurina verde almeno spero ok quindi qui letteralmente questo c'è anche un impegno che tu potresti prendere prendere un impegno per fare un qualcosa con qualcuno perché qui vedo anche il mangiare fuori quindi il ristorante il bar cioè l'andare a mangiare l'andare a bere con qualcuno quindi qui una scena una bevuta con qualcuno che ti potrebbe anche venire offerta quindi qui è anche possibile che qualcuno ti offra una scena una bevuta insomma ecco va bene e dei denari qui vedo soprattutto dei soldini che entrano magari forse un po' di più di quelli che tu ti credevi di quelli che tu ti aspettavi la novità l'abbiamo vista ci fanno vedere proprio anche la dagli oracoli abbiamo visto qualcosa di nuovo che si manifesta che entra che fa la sua entrata in scena non so come è meglio come è meglio dire ma anche come ci stavano dicendo proprio anche gli oracoli una diciamo arriva il momento di uscire cioè qui è come se tu ti dovessi avventurina verde in qualche modo liberare da una situazione ok liberare da una situazione fammi vedere qual è il consiglio che date all'avventurina verde guarda qui evita in ogni modo lo scontro verbale evita in ogni modo la critica l'attacco magari a qualcuno magari tu reposi che qualcuno ti abbia fatto un torto diciamo così no quindi evita in qualche modo ecco questo scontro questo attacco frontale ok ma cerca semplicemente di uscirne di startene per conto suo e di parlare poco in special modo avventurina verde non perché succeda chissà che cosa è perché qui i tarocchi sono positivi mi fanno vedere però insomma qui c'è qualcuno che anche magari in buona fede io non voglio dire anche magari in buona fede per esempio ci potrebbe essere un appuntamento che salta magari ti hai fissato qualcosa con qualcuno ma questo qualcuno si tira indietro si tira indietro salta un appuntamento capito magari tu dovevi far qualcosa a cui tu ci tenevi e invece ti salta andiamo a vedere avventurina verde cos'altro per l'avventurina verde l'otto di bastoni per l'avventurina verde però accidenti no allora guarda e gli amanti del taglio allora io ti dico la verità per questa settimana per l'avventurina verde poi per carità non che accada solo questo ci mancherebbe ma molto mi parlano di questo qui c'è un aumento di lavoro io in special modo vedo il lavoro comunque la tua vita quotidiana non tanto l'amore il fruffrulo anche se qui ho un bel asso di coppe c'è però un asso di coppe da solo mi dice sinceramente io qui tutto st'amoro non lo vedo poi magari c'è per carità però non è di questo che mi parlano le carte le carte mi parlano in special modo di lavoro di doveri quotidiani di onori quindi qui c'è un qualcosa che ti fa onore che ti rende merito una soddisfazione il lavoro che aumenta il raccogliere ciò che si è seminato capito cioè qui ti arriva tu vieni ripagata avventurina verde per un grosso sforzo che tu hai fatto in precedenza non so se mi spiego capito quindi qui è segno che tu ti sei data da fare in un qualche cosa e marzo ti porta la non voglio dire diciamo la ricompensa ecco capito quindi questo qui ci può essere anche uno spostamento un viaggio l'andare da l'andare da qualche parte magari forse proprio come ti ho detto per divertimento che possa essere per una cena tu vai a un pranzo tu vai a un aperitivo insomma qui c'è un momento proprio di divertimento di gioia diciamo capito insieme insieme agli altri ma quello che vedo come ti ho detto qui c'è proprio il lavoro che aumenta che si espande che ti darà grandi soddisfazioni anche proprio economiche un'entrata di denaro di un certo di un certo tipo che poi per l'amor di dio può anche non provenire da dal lavoro se tu sei in pensione sarà la pensione se tu sei capito può venire anche da altre strade da altre cose però ecco qui vedo molto la vita quotidiana non tanto l'amore fru 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 poi per l'amor di dio qui ci sono anche delle emozioni per carità e delle grandi soddisfazioni anche a cominciare come mi dice questo ananas da una riconciliazione quindi qui ci si potrebbe riconciliare con qualcuno magari con quel qualcuno che ci ha fatto saltare qualcosa ok un chiarirsi o riconciliarsi con questa persona che non è detto che sia un uomo lo scrivo in caratteri cubitali un uomo una donna il nostro amore semplicemente ci si riconcilia con qualcuno punto ok con un'amica con un collega con chi ti fa con un figlio va bene un'emozione senz'altro c'è perché c'è anche questo asso di coppe per l'amor di dio poi qui vedo anche ci può essere chi di voi chi di voi potrebbe compiere gli anni in questo mese di marzo e ti faccio i miei migliori auguri perché dico questo perché vedo anche il brindare o comunque il pranzo il brindisi il bere eccetera capito quindi ci sta che ci sia chi sta festeggiando il compleanno ma ci può essere appunto proprio anche un dono se non è un dono che arriva potrebbe essere un dono inteso come una proposta di un certo tipo magari forse proprio per quel lavoro di cui ti ho parlato oppure semplicemente una proposta un invito di altro tipo però comunque sia sempre 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 gradito non ci dimentichiamo che qui c'è questo sole con questa corona della vittoria quindi qui un qualcosa ti viene riconosciuto un qualcosa tu vinci o un qualcosa sicuramente durante questo mese di marzo ti farà ti farà tanto tanto piacere avventurina verde fammi vedere guarda ah son due il 4 e il 5 di il 4 e il 5 di denari esattamente si vabbè è l'otto di coppe che fra l'altro è già uscito qui e gli avanti nel taglio e nel taglio stesso qua quindi qui ci può essere anche un incontro affettivo però metto sempre i puntini sulle i perché se no si pensa solo a quello qui ci sta anche un incontro romantico un incontro passionale vedi c'è l'asso di coppe ci sta ma non è sicuramente solo di quello che mi stanno parlando queste carte anzi tutt'altro non so se te l'ho detta avventurina verde ma qui tu firmi anche un contratto di un certo tipo io credo un contratto di lavoro un contratto di lavoro però insomma fammi sapere se si tratta di un contratto di altro di altro tipo e dimmi anche se tu vuoi chi è che potrebbe farti saltare questi progetti questi programmi magari è semplicemente un appuntamento eh nulla di che però insomma fammelo sapere se vorrai va bene avventurina ah ti lascio giù sotto nella descrizione di questo video il link per andarti a vedere le carte che ho creato io che tu vedi in questo video a cominciare da questo mazzo per esempio oracoli volume 2 ti lascio tutto qui sotto andiamo a vedere gli altri mazzetti adesso andiamo ciao ametista benvenuto qui nella tua stesa andiamo a vedere il tuo mese di marzo come vedi per te userò due mazzi che ho creato io entrambi ti lascio comunque se ti interessa avere queste carte i link giù sotto in descrizione del video va bene così te le vai a vedere e vedi insomma se ti interessano eccetera 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 allora vediamo il mese di marzo 2023 per coloro che hanno scelto l'amethista cosa accadrà a queste persone per il mese di marzo per l'amethista mese di marzo 2023 ok una somma di denaro che arriva direi che si comincia subito bene ne tiriamo un'altra una somma di denaro che arriva e poi per l'amethista presta attenzione ai dettagli qui dobbiamo prendere le misure a una determinata situazione o magari dobbiamo stare attenti no vedere proprio i dettagli eccetera di questa somma di denaro io credo che qui potrebbe essere veramente una somma di denaro che tu aspetti che tu aspetti e magari anche da da del tempo ma andiamo per gradi vediamo mese di marzo qui c'è una chiave aha vedi successful outcome to your problems qui c'è la come si dice outcome risultato positivo dei tuoi problemi quindi qui tu trovi la chiave per risolvere qualcosa ora letteralmente magari ti arrivano dei soldi che ti servono per fare altro eh e la chiave mi parla di questo di questo denaro che arriva e con questo denaro tu puoi fare quello che tu devi fare o viceversa è proprio questo denaro ok il problema che tu avevi che non ti arrivava ma e ora come tu vedi è già una conferma le carte che stanno dicendo che questi soldi arriveranno abbiamo ancora per la metista per il mese di marzo mese di marzo un viaggio un viaggio che sia mentale o fisico quindi o proprio tu vai da qualche parte fisicamente tu fa un viaggio vero e proprio oppure un viaggio mentale inteso proprio come un cambiamento magari del tuo stato d'animo e via dicendo qui c'è l'uccellino waiting for news package letter vedi qui si aspetta si aspettano delle notizie un pacco o una lettera secondo me il pacco la lettera che si aspetta sono questi soldi comunque poto mi far sapere magari una notizia che riguarda questo denaro ma guarda come si stanno parlando queste carte alluscinante vediamo ancora come parlano le carte guarda fa spavente è alluscinante è alluscinante cosa c'è qui qui c'è l'uccellino con la lettera ma lo vedi lo vedete è alluscinante e qui ci hanno parlato esattamente guarda l'uccellino che sta aspettando proprio la lettera che arriva eccola là e questa arriva guarda come si parlano queste carte è alluscinante alluscinante quindi qui ci confermano che queste news questa lettera questa notizia arriverà e a quanto pare si deve trattare di un qualcosa di cruciale per te di molto importante perché qui ce lo dicano in tutte le in tutte le lingue qui ricordiamoci che troviamo la chiave per un qualche cosa ma andiamo a vedere i tarocchi che dicono andiamo a vedere la sentenza dei tarocchi allora per l'ametista perché se chiedo di un intero mese e le carte mi vanno lì è segno che questa notizia è veramente una cosa importante per te insomma no andiamo a vedere poi per carità può riguardare questo denaro come può riguardare anche altro qui ho sia l'arrivo di denaro sia una notizia importante che si stava aspettando allora per l'ametista lotto di coppe come prima carta cos'altro il re di spade eccola la il cavaliere di spade il dieci di bastoni mese di marzo 240 carte ne voglio una poi dopo andiamo ad ampliare facciamo quello che vogliamo ma adesso una carta il dieci di spade che però è uscito rovesciato ed è assolutamente un bene allora ci sono due volte dieci ma guarda allora qui sicuramente si esce da una situazione e si esce da una situazione in modo assolutamente favorevole assolutamente positivo questa è una situazione che ti ha dato del filo da torcere molto da pensare non escludo si tratti di una sentenza magari di lavoro o comunque un qualcosa che proprio ti ha richiesto tanta 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 fatica ok ma proprio tanta qui c'è un qualcosa di pesante che è successo però ecco adesso qui diciamo che non so se questa è la fine ma diciamo che è un momento di successo qui si trova la chiave quindi potrebbe essere una sentenza che arriva perché vedo l'uomo di legge quindi la sentenza che arriva che ti risolve una determinata una determinata cosa non escludo si tratti proprio di lavoro o di denaro magari una causa per queste cose se non è questo il tuo caso qui c'è semplicemente una persona che si fa sentire che si fa viva con delle novità delle notizie magari forse proprio con un con questa lettera famosa qui ci sono delle novità delle notizie con mercurio messaggero degli dei Hermes il dio con le ali ai piedi ok che porta vedi la buona novella la buona stella che porta una notizia ma è una notizia positiva questa quindi poi tu mi farai sapere una notizia positiva che ti potrebbe dare la conferma diciamo no di questo successo di essere arrivata a una risoluzione di un qualche cosa va bene ma è un qualcosa che te tu aspetti da un bel po' cioè qui c'è una situazione che si è trascinata da un bel po' di tempo da quello che capisco da queste da queste carte ed è una notizia una novità che ti porta comunque un vantaggio qui c'è una situazione che volge verso di te cioè a tuo vantaggio so come è meglio come è meglio dire va bene quindi poi tu me lo farai sapere vediamo quale sarà la sfida per l'ametista per il mese di marzo qui c'è una risoluzione di un qualche cosa forse di un litigio come ti ho detto se tu hai una causa insomma ecco capito se ti ha dovuto lottare vedi la sfida cacchiarola il diavolo con il 5 di bastone come sfida quindi qui insomma vedi un po' qui tu ci hai il cornuto contro quindi qui c'è un qualcosa un qualcuno di assolutamente molto forte contro cui hai lottato con le unghie e con i denti ok però ecco ti dicevo qui bisogna mantenere sicuramente la barra dritta rimanere forti rimanere centrati va bene che qui insomma tu la tu la tu la sfanghi andiamo a vedere il consiglio qual è il consiglio per la metista qual è il consiglio per la metista scelgo io ok scelgo io eh vado Dio scelgo io ah ok il mondo bella il mondo con la regina di bastoni e qui c'è anche una bellissima ehm temperanza ma la carta che tanto tanto mi piace è questa guarda com'è guarda com'è questa regina di bastoni con il mondo ma eh qui il consiglio sicuramente è di rimanere calma ametista calmo calmo io dico ametista al femminile ma che tu sia uomo o donna è uguale rimani calma rimani tranquilla quanto più tu puoi perché qui tu arrivi effettivamente alla alla risoluzione a ritrovare un equilibrio a ritrovare una tranquillità una serenità tua ametista durante il mese di marzo qui tutto gira su queste notizie boh io non so come mai sono così importanti vediamo ancora l'ametista poi facciamo il assunto della situation fammi vedere allora guarda qui ci potrebbe essere anche il riaffacciarsi rifarsi sentire di qualcuno con cui tu avevi rotto per un litigio o qualcosa del genere attenzione capito qui arriva anche questa notizia qualcuno con cui tu hai litigato con cui era successo qualche cosa vedi guarda ok tu potresti fare pace insomma la persona potrebbe mandarci questo messaggio questa telefonata ametista quindi insomma marzo un mese guarda guarda il sette di il sette di bastoni il nove di bastoni e l'asso di spade quindi qui tu potresti avere veramente un chiarimento con qualcuno ok con una persona che come ti ho detto magari un po' guarda qui c'è il sole nel taglio del mazzo meglio di osisse more una persona con cui tu potresti avere avuto un litigio un diverbio insomma un qualcosa del genere qui può arrivare effettivamente la 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 novità che sia la chiamata che sia il messaggio la lettera guarda che mi volai tre di coppe se ciao vabbè il dieci di coppe con il tre di coppe quindi qui c'è un qualcosa che ti darà estrema gioia estremo piacere ma già guarda qui le stelle con il sole cioè stelle sole ok già anche queste carte ce lo dicevano dopo una morte cioè dopo una chiusura dopo una fine di un certo tipo qui c'è una grande gioia per te ametista che porterà il mese di marzo sarebbe curioso sapere di che segno sei dove hai l'ascendente ma lo vedremo nell'oroscopo di marzo che pubblicherò a breve va bene però ecco qui fanno vedere già esattamente vedi qui era successo qualcosa con qualcuno ok o una coppia era saltata c'è stato un litigio c'è stato un qualcuno qui che ha dato di matto che proprio ha dato un po' numeri però insomma qui la cosa dovrebbe dovrebbe assolutamente risolversi da come dicono le carte e poi abbiamo visto insomma tutto quello che ti ho detto che ti ho detto fin qui a cominciare dalla somma di denaro che che arriva vedi qui le cose cambiano le cose cambiano in meglio la situazione è positiva cambierà in positivo insomma poi è uscito il sole ma ce l'hanno detto un po' tutti i mazzi qua di carte chi con con delle parole chi con altre ma questo ci hanno detto quindi qui ne arriva un dono qualcosa di assolutamente positivo che ti ridà la gioia la speranza la voglia ad andare avanti questo è quello che ti posso dire io ho detto proprio in parole povere quindi ametista fammi sapere giù nei commenti va bene andiamo a vedere l'altro mazzetto adesso andiamo ciao quarzo rosa andiamo a vedere anche per te il mese di marzo 2023 partiamo dagli oracoli se ti interessa avere questo mazzo di carte ti lascio giù nella descrizione di questo video il link va bene per informazioni allora vediamo con gli oracoli volume 2 per il quarzo rosa come sarà il mese di marzo 2023 marzo 2023 per coloro che hanno scelto il quarzo rosa mese di marzo per coloro che hanno scelto il quarzo rosa c'è qualcosa che devi sistemare aha qui c'è un qualcosa da mettere a posto eh quarzo rosa che sia addirittura proprio letteralmente un mese in cui tu ti potresti dedicare tu ti potresti dedicare guarda là che ma troppe però le volevo tutte ste beata solitudine in assoluto relax mamma mia che bellezza qualcuno ti corteggerà il corpo è la tua casa prenditene cura ecco qui letteralmente mi pare evidente allora qui durante questo mese di marzo sicuramente tu ti potresti dedicare a mettere a posto passami la battuta a mettere a posto qualcosa di te del tuo corpo cioè qui ok ci potremmo dedicare insomma estetista beauty farm magari una spa va bene quindi donarci un qualcosa di bello di carino magari un bell'abito un qualcosa insomma in più del relax come stavo dicendo quindi un periodo un pochino più di riposo ma nello stesso tempo qui c'è anche un qualcosa ci dicono le carte da sistemare quindi magari tu fa qualcosa in casa tu cambi le tende tu ristruttori casa e via dicendo comunque detto questo qui c'è molto anche la cura di sé però qui c'è anche una carta che ci parla di corteggiamento ecco allora ora andiamo a vedere quarzo rosa per il mese di marzo tutto il mese di marzo 2023 lo stivale in crisi di forza il fio quanto a cibi o gozo eccola là qui bisogna che tu ti dia una mossa ti stanno dicendo le carte devi sistemare qualcosa devi lavorare devi darti da fare no quindi devi si aumentare insomma ti devi dar da fare se vuoi arrivare ai tuoi obiettivi parole testuali esempio ti vuoi mettere il bikini la 40 devi andare in palestra insomma questo lo dica a me comunque dai a parte gli iscritti va bene qui se vogliamo raggiungere un qualche cosa ci dobbiamo dare una mossa guarda le carte sono cattive quando ci dica le cose in faccia un quarzo rosa mese di marzo questi che qui c'è il gufo good advice from a wise person eccola là qui c'è una una un buon consiglio da una persona saggia che potrei essere io che ho appena detto mi raccomando ho dato una mossa va bene ora oggi voglio scherzare comunque veramente un consiglio da parte di qualcuno magari un consiglio proprio in questo senso magari tu hai fatto un bel vestito tu vai che ne so io va bene comunque ci sono dei buoni dei saggi consigli che ci arriveranno per risolvere un qualche cosa andiamo ancora al mese di marzo poi tiriamo le somme mese di marzo per il quarzo rosa per coloro che hanno scelto il quarzo rosa andiamo a vedere coloro che hanno scelto il quarzo rosa come sarà il mese di marzo so eredità ma eredità in tutti i sensi qui ci potrebbe essere una vincita o qualcuno ti regala ti dà qualcosa che era suo e via dicendo anche perché di altre cose qui non mi fanno pensare comunque vediamo con i tarocchi poi parliamo mese di marzo 2023 per coloro che hanno scelto il quarzo rosa ok prima carta all'otto di spade e credo sia quel qualcosa che devi sistemare l'otto di denari due volte otto otto di spade otto di denari le stelle qui c'è comunque durante questo mese di marzo qualcosa che tu proprio non t'aspetti che ti arriva e ti arriva insomma che non è stato preventivato prima un lavoro da fare magari un qualcosa che devi sistemare in casa che non ti aspettavi e via dicendo vediamo il 2 di denari ok 2 di denari e un altro 2 e 2 di bastoni però la regina di bastoni del taglio che è una carta molto bella molto energica molto ok mettiamolo qui il taglio dovreste vederlo ok qui qui mi parlano di corpo e qui mi fanno vedere questa fanciulla nuda nell'acqua quindi qui mi viene da pensare veramente che potreste iniziare una cura magari anche la palestra capito per esempio insomma un impegno di un qualche tipo per migliorarvi quindi io penso a un estetista penso per un pensa troppa fatica cioè questa mi sembra una faccia troppa fatica sinceramente quindi la palestra si ma insomma se non la vivi come una fatica si però qui c'è un qualcosa che tu puoi fare per sistemarti per sistemarti fisicamente ma anche spiritualmente qui mi fanno vedere proprio anche spiritualmente l'andare a stare meglio c'è qualcuno anche sicuramente che ci corteggia che ci sta dietro che ci ha messo gli occhi addosso qui c'è un messaggio che arriva di un qualche di un qualche tipo fammi vedere ma anche un impegno importante durante il mese di marzo nel senso citaremo l'affare per un qualche cosa sicuramente infatti qual è la sfida l'appeso ma è la sfida qui e prende la situazione in mano nel senso qui fammi vedere per il quarzo rosa qual è il consiglio che date al quarzo rosa per il mese di marzo il 10 di bastoni se vuoi realizzare questa cosa che sia sul tuo lavoro perché vedo anche il lavoro che sia comunque un qualcosa che veramente tu vuoi sistemare nella tua vita tu ti devi dare una mossa guarda sono un po' cattive queste carte nel senso che l'inutile tu continui a lasciare andare e tutto quanto bisogna che tu cerchi di guardare la situazione da un punto di vista diverso specialmente se è diverso dal tuo quindi cercare di vedere le cose con la festa all'ingiù però ma mettiti la testa all'ingiù tu vedrai che il mondo è diverso ok e darti da fare qui c'è da affasso un bel mazzo sinceramente se ci si vuole arrivare e qui l'energia e the skills come si dice le capacità tu ce l'hai tu ce l'hai sicuramente qui ci sono le stelle c'è una regina di bastoni quindi figurati va bene fammi vedere per il qualsorosa c'è l'imperatrice come risultato è oh cioè queste sono carte belle che promettono sicuramente è anche qui una fanciulla bella nuda qui di nuovo c'è la nudità del corpo vedi come a dire io molto ci vedo quello un impegno in tal senso un qualcosa che tu punti proprio su di te durante il mese di marzo ma anche come stavo dicendo il lavoro il tuo impegno in qualcosa se non si parla di lavoro vero nel senso che tu va a lavorare guarda l'imperatrice il re di spade che tu va a lavorare è un qualcosa della tua quotidianità ok io posso sapere tutte ma non le saprete voi andiamo a vedere ancora per il quarzo rosa e la regina di denari eccola la quindi è il re di bastoni guarda quanta gente c'è lotto di bastoni no vabbè allora qui c'è un qualcosa di estremamente positivo di estremamente favorevole ok potresti fare qualcosa anche con una coppia di amici o con i genitori cioè qui c'è una coppia anche vedi poi per l'amor di dio magari sono colleghi qui c'è un re e una regina di bastoni fra tutte le altre cose e tutti gli altri personaggi quindi qui un qualcosa di assolutamente positivo anche da parte di queste due figure che come ho detto potrebbero essere i genitori veramente ok qui c'è una situazione che cambia che cambia nel senso positivo nel senso a te favorevole una notizia che arriva molto molto importante ma anche è comprenderci un momento di relax concederci qualche lusso lusso intendo dire anche se qualche giorno di riposo solitamente non te lo concedi ecco ti potresti concedere questo o semplicemente anche come stavo dicendo estetisti parrucchieri un viaggio ok una non lo so qualche giorno di vacanza come si chiama in una fattoria nel verde e via dicendo fammi vedere ancora per il quarzo rosa no qui mi è cascato ok per il mese di marzo del quarzo rosa guarda vedi il 3 di denari 3 di denari il 2 di denari che è già uscito anche qui ok e la regina di denari che è uscita già qua va bene quindi qui tutte le carte ce lo stanno dicendo ci potrebbe essere un viaggio un movimento uno spostamento da qualche parte le carte ti invitano senz'altro all'azione qui tu incontri qualcuno c'è un incontro un uscito uno spostamento insomma un fare qualcosa uno svago un divertimento insieme ad altre persone il prendersi cura di sé sicuramente c'è del denaro che arriva o ancora del denaro che entra dal lavoro un guadagno dal lavoro e ancora qui c'è qualcuno che ci sta addosso nel senso che ci aiuta che ci consiglia magari che ci aiuta a muoverci poi magari per l'amor di Dio magari il geometra per la casa perché devi fare dei lavori perché io vedo anche quelli poi non sarà per tutti quindi non entro nei dettagli capito e ti voglio dire è troppo specifica la cosa però ci può essere anche quella la persona che ti aiuta che ti dà dei consigli per fare un lavoro in casa e non magari forse proprio per il lavoro per ok quindi un po' questa la situazione quarzo rosa ma per tirare le fila per tirare qui ti invitano sicuramente adatti da fare e l'abbiamo visto anche dai tarocchi quindi ti devi un po' sforzare ci sarà da lavorare da impegnarsi in un qualcosa per avere un risultato positivo perché anche quello arriva ci dobbiamo semplicemente sarà un mese abbastanza bam 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 movimentato però insomma fruttuoso ecco questo vi volevo dire va bene quarzo rosa io ti ringrazio per essere stato qui con me e ti aspetto ovviamente sempre qua al mio prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.